Sono contento di fare il mio primo audio del 2019 su Leo Luca Orlando, in quanto è uno di quei personaggi che io definisco esemplari, non in termine positivo ma neanche negativo, in termini neutro. Cioè lui spiega in maniera chiara quali sono le caratteristiche fondamentali per fare fortuna politica in Italia, cioè sapersi adattare a ogni stagione, a ogni cambio di vento, e sapersi rendere piacente a un arco quanto più ampio possibile di persone. Orlando è da questo, un demagogo nella sua espressione massima piena, abile nel apparire di sinistra senza essere di sinistra, mantenendo sempre però buoni agganci e buoni uffici con gli ambienti più moderati e anche conservatori. Questo gli ha permesso, nell'arco di 30 anni, di essere appunto sindico di Palermo per 5 mandati, ricoprendo questa carica per un totale di 18 anni, e di avere sempre avuto gli appoggi più trasversali e più disparati e essere sopravvissuto diciamo anche a una serie di sconfitte elettorali e anche episodi poco, diciamo, che gli fanno poco onore. È tornata la ribalta in questi giorni per la vicenda che lo ha coinvolto contro il ministro dell'Interno Salvini, dichiarando Orlando che, in virtù di sindaco di Palermo, non applicherà mai il decreto sicurezza voluto da Salvini, che prevede una serie di misure, si può dire, svantaggiose nei confronti appunto delle popolazioni, gli abitanti, come dice, dei residenti di origine straniera. Soprattutto il punto più controverso è la mancata registrazione all'anagrafe per le popolazioni di origine straniera che hanno lo status di rifugiati. Orlando, in quanto un po' per convinzione, un po' per demagogia, si è sempre mostrato come personaggio aperto nei confronti delle popolazioni di origine straniera, facendo molte iniziative al loro vantaggio, ovviamente non può che ergersi in contrasto contro tale legge, anche se intervengono un paio di questioni al riguardo. Anzitutto il fatto che tu, sindaco, ti rifiuti di applicare una legge voluta dal governo nazionale, tu fai un gesto di insubordinazione contro appunto il sistema di potere vigente e crei un precedente che può essere applicato da altri sindaci di altri colori politici o altre convinzioni su altri temi nei confronti di altri governi. Cioè si crea un meccanismo un pochettino, diciamo, strano, un meccanismo senza dubbio che è all'antitesi, cioè alla base della disgregazione di uno stato di diritto. Eppure, diciamo, un po' una questione simile a quella di Domenico Lucano, se vogliamo. Domenico Lucano ha violato la legge, ma l'ha fatto a fin di bene, quindi ciò rende legittimo il suo atto. L'azione di Orlando è analoga. Orlando sta agendo a fin di bene e questa sua azione, anche se va contro le leggi, è da ritenersi legittima. Ora, senza dubbio la battaglia politica di Orlando è legittima ed è coerente con le tesi che ha sempre sostenuto. Su questo punto di vista non posso contestarlo. Il mio timore è che, al di là di questo, e al di là del fatto che secondo me il ministro dell'interno dovrebbe incontrarsi con i primi cittadini e trovare un punto di mediazione per uscire da questo impasse, il mio timore è che però si stia dando un'importanza, un peso e si stia mettendo sul piedistarlo Orlando più di quanto meriti, in quanto è un personaggio che chi ha imparato a conoscerlo sa che è uno che trae la benché minima occasione per farsi spettacolo e per gettarsi, per fare un trampolino di lancio per la sua ascesa politica personale. Anche se ormai a 70 anni suonati, Orlando è un uomo ambizioso e non gli dispiacerebbe se, negli anni che gli rimangono come politico attivo, possa ancora ricoprire qualche incarico, qualche ruolo a livello nazionale. Addirittura è così ambizioso, secondo me, da non mettere in secondo piano l'ipotesi di diventare il leader del centrosinistra. Sembrerebbe assurdo, ma è così. Perché comunque un uomo che spesso, nonostante abbia tante qualità e molta intelligenza, spesso perde il senso della misura e non è consapevole dei suoi limiti. Ripercorrere la storia politica di Orlando è veramente un lavoro pesante e difficile. È un uomo che è stato importante per la Sicilia e per Palermo, anche in positivo, in quanto quando diventò sindaco di Palermo nel 1985, il capoluogo della Sicilia, cioè il capoluogo dell'isola, era al centro dei riflettori del mondo per via del pesantissimo, per il clima creato dalla mafia, quando appunto la mafia di Corleone guidata da Totorrina, sfondeva sangue per le strade, c'era un morto al giorno, c'erano scontri, conflitti continui nelle guerre tra bande e Palermo ormai era equiparata a Beirut, a livello appunto di violenza all'epoca. Il marchio, l'infamia che si era fatta alla città per colpa della mafia era sotto gli occhi di tutti. Orlando ebbe il merito incontestabile di riuscire, una volta divenuto sindaco di Palermo, ai tempi era un democristiano, e lo è tuttora, tutto sommato, mantenendo anche la sua capacità, ripeto, la capacità di adattamento, l'abilità e la demagogia che era tipica dei democristiani. Un moderato che si fa ben volere a sinistra. E per certi versi uno di quei personaggi che sono stati fondatori della mentalità costitutiva dell'ulivo, del centro-sinistra. Al di là di questa digressione sulla formazione ideologica di Orlando, egli riuscì a far uscire Palermo da un clima da incubo. Palermo era tornato una città più vivibile, i palermitani vivevano meno nella paura. E quindi la sua amministrazione, il suo primo mandato dall'85 al 90, il suo secondo dal 93 al 2000, hanno avuto senza dubbio dei meriti. Palermo ha potuto vivere una stagione veramente positiva, la cosiddetta primavera di Palermo, che contestarne la bontà sarebbe operazione fatta in malafede. Allora io ho studiato molto la storia amministrativa di Palermo dall'Unità d'Italia ad oggi. Forse Orlando non è stato il migliore sindaco di Palermo, ma sicuramente dopo la terribile stagione del secondo dopoguerra, con Salvo Lima e Vito Ciancimino, che avevano distrutto una città bellissima, favorendo una speculazione edilizia mostruosa, che aveva distrutto alcune delle più belle abitazioni di Palermo, senza dubbio quella di Orlando fu una ventata di acqua, una ventata d'aria fresca, ma anche d'acqua, un torrente di acqua ristoratrice pura, che spazzava via una palude stagnante di malaffare, collusioni con la criminalità organizzata, che per quella città era doveroso e necessario. Orlando si aspetti controversi. Ha avuto accordi poco chiari con certe figure dal passato oscuro. Senza dubbio è un marchio di infamia per lui l'aver avuto un padre che è stato avvocato dei mafiosi, ma questa è una colpa che non ricade su di lui. Orlando senza dubbio ha avuto degli atteggiamenti ambigui, strani. Spesso ha parlato più di quanto doveva parlare per il bene suo, per andare avanti le sue battaglie politiche, non tenendo conto appunto dei danni che poteva comportare in quanto personaggio politico di caratura nazionale. Una volta, per aver accusato pubblicamente un ufficiale dei carabinieri di collusioni mafiose, quest'ufficiale, sapendo delle conseguenze che poteva avere queste dichiarazioni come marco di infamia, decise di suicidarsi come reazione a questa accusa mossa agli da Orlando. Questo è il problema di Orlando. Orlando parla troppo spesso, è troppo pieno di sé, si sente quando è al centro dell'attenzione, come adesso, si inebbia, si galvanizza, è convinto di poter conquistare tutto in un colpo solo. Il fatto che abbia coronato dei successi straordinari, che il suo ritorno al sindaco di Palermo nel 2012 non era così scontato, è riuscito a sbaragliare un centrodestra che in Sicilia aveva, all'epoca stiamo parlando ancora, nel 2012 era fortissimo, era un qualcosa appunto di notevole. Il problema è che poi lui pensa di poter mettere in piano piani progetti di più ampio respiro, finendo però con l'essere solitamente stroncato quando prova a fare progetti guidati a lui a livello regionale o nazionale. Come si dice a Palermo, il dominio di Leo Luca Orlando non va oltre il Babyluna, che sarebbe cioè una stazione di servizio che si trova nell'autostrada che separa Palermo dal resto dell'isola. Quindi Orlando appunto è un uomo che non è consapevole dei propri limiti e io temo che questa sua battaglia, che è anche giusta, anche legittima, lo porterà galvanizzandosi e vedendo che altri sindaci, peraltro di natura demagogica come la sua, come appunto Luigi De Magistri San Napoli, potrebbe essere il trampolino di lancio per un qualcosa che va a favore non dei migranti, ma a favore di se stesso, a favore appunto della sua pancia potremmo dire. E con conseguenze che per me non potrebbero che essere dannose, perché diciamo è uno che vive, per me è la cosa più fastidiosa che lui, le sue azioni, la sua condotta e il suo modo di agire e di ragionare è sempre stato diciamo sempre pesantemente egocentrico e purtroppo la sua mancanza di progettualità e di capacità di vivere, di agire collegialmente in un progetto politico l'hanno sempre compromesso. Ha avuto ad esempio nel suo progetto, quando era sindaco di Palermo, aveva a suo fianco un uomo importante dell'antimafia palermitana Ennio Pintacudo, un gesuita che fu importante nel rinnovamento culturale di Palermo. Alla fine però l'egocentrismo, il dominio, il protagonismo di Orlando, lo portarono in rottura con questo personaggio. E via via, io ho conosciuto anche avendo fatto politica più di otto anni fa nel partito di Di Pietro a Palermo, che ai tempi equivaleva a dire Orlando, ho conosciuto un po' il suo ambiente, ho conosciuto persone con cui ho avuto a che fare e ho notato che Orlando si è sempre circondato di persone capaci, persone competenti anche, ma che è arrivato un certo periodo di tempo queste persone rompevano con Orlando. Cioè è impossibile diciamo stare con lui mantenendo un rapporto da pari a pari, vuole sempre comandare, vuole sempre dominare, pure quando era nel partito di Di Pietro diceva Di Pietro è il capo, il leader sono io. E probabilmente Di Pietro, diciamo, vabbè lasciandogli comunque il controllo della Sicilia, comunque sarà lo stesso Di Pietro che aveva anche lui un atteggiamento autoritario, l'avrà tollerato ben poco. Questa diciamo un po' una vicenda, potremmo dire, di caratura più ampia, come certi uomini che hanno grandi qualità e grandi virtù si vanno a rovinare per il loro egocentrismo e per la loro pretesa di dominare sulle altre persone. Questo diciamo un po' secondo me il ritratto, l'espressione massima di questa persona che secondo me, ma se porterà avanti questa battaglia, lo farà, lo ripeto per concludere, il trampolino di lancio per un progetto politico di rilancio personale, soprattutto ora che è tornato nelle file del PD, e che il PD cerca nuovi leader e nuovi equilibri di forza, e quindi secondo me alla fine il progetto sarà deleterio e autorreferenziale, quindi andando ben oltre le legittime, i legittimi interessi e le legittime battaglie di natura umanitaria con cui si è portato avanti in queste ultime ore.